musica aaaah ho capito un lavoro accidenti sono cieco quindi non la ho fatto la stupidata come sempre vabbè l'importante è che siamo qui musica 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 è questa e cosa? perché a a Sam piace molto il gelato e a chi voglio dargli torto a chi il gelato è una delle invenzioni più grandi del mondo musica 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 ok qui dobbiamo andare e qui dovremmo sconfiggere un milione di nessuno no no non è vero non sono così tanti però sono tanti ecco sconfiggi tutti nessuno mi mette come età musica musica ah ecco musica 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 qualcuno è anche morto musica 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 yes abbiamo fatto subito musica 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 siezzi musica ecco a pezzo che fa lo sborone musica posing musica oro e cui bisogna aiutare aver fame e quella per una volta in un mil statements è un'ultima che combattiamo con Axel combatti insieme a Axel è scomplice era meglio ok 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 e vai mi sto uccidendo più io mi sto uccidendo più io ma i detti nessuno mi caga e questo non lo posso accettare e questo non lo posso accettare Prendti coi Arrivo io Ok stai per morire Fatto E qui Li preferivo quando erano Dalla mia parte Ci stai ripensando No Li sistemerò io Guarda Esplosione Alla magia in vegeta Ok qui Axel muore dopo varie cose Otteniamo un keyblade Ok Abilità No Oggetti Potenza di magia aumenta il danno in fatto delle attacche di elemento fuoco Prendiamo questo Ok Questo è l'ultimo livello di Kingdom Hearts 2 Nel senso che questo È l'ultimo mondo in cui dobbiamo Oh Oh Fatto E qui ci sarà il filmato Del secolo Sora vs Rozzel Che in Final Fantasy Possiamo sfidarlo Sora Papreno Pippo Ok Ecco Rozzel Lo capirete dalla sua Un Keyblade Lo capirete dalla sua statura E dal fatto che Dal fatto che ha un Keyblade Tu che sei Sono tuo padre Qualcuno che viene dall'oscurità Non sei Riku 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 Una volta ho sconfitto un certo Riku Tu cosa? Non è vero Dimmi Dimmi perché ha scelto te Non è vero perché Usando il potere dell'oscurità E' riuscito a batterlo Rozzel No no Intendo dire che Rozzel E' riuscito Che Riku Ha battuto Rozzel E non il contrario Il primo video Capisco Ecco perché E' così epico Che non l'ho saltato Quindi capirete Ok Oh no Oh my god Sora Stai per morire Non è vero Cosa? Ficcatelo nel sedere E' il Keyblade Addio Mondo crudele Sto facendo un po' La parodia Dello scontro Lo ammetto Ok Quindi Fra poco finiamo Il problema è che Dopo affronteremo Un boss Molto potente Saltiamo Aia Mi hanno fatto Mi sta fatto Aia Haha 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 Ok. Ok, fatto. Ok. Ah, ok. Aia. Hai rotto davvero le panni. Vabbè, mi hai rotto davvero le panni, ora tu tu muori. Oh, cavolo. Morta, alleluia, mi hai rotto le panni. Crepa, crepa, crepa. Ah, mi manca, no. Botta stordente. Ok. Questa sarà anche un po' di allenamento per il prossimo boss. Cioè, zibare. Che non faremo adesso. Perché sennò ci... Perché c'è troppo da... C'è troppo da sclerare. Quindi finisce questo livello di Kindle Heart Test 2. Cioè, c'è troppo da sclero di Kindle Heart Test 2.